Il sindaco di Sulmona, Peppino Ranalli, è in attesa di essere convocato per un incontro con il Comitato Tecnico sui punti nascita abruzzesi. La battaglia intrapresa intende far prevalere la questione orografica perché, dopo la chiusura dei reparti a Popoli e Castellisangro, Sulmona rappresenta un punto strategico a livello territoriale. Bisogna riaprire un'avvertenza che è un colloquio con il Presidente della Regione e con l'assessore perché noi abbiamo fatto una richiesta di incontro con il coordinamento sul quale ci stiamo battendo fortemente sulla questione orografica, cioè non lasciare mezzo abruzzo privo di un punto di riferimento. La questione oggi diventa una questione prettamente politica che deve essere affrontata indipendentemente dai numeri della spending review. Ma sono convinto che anche il numero delle nascite che riguardano questi territori, da Castellisangro fino alla Val Pescara, perché i presidi chiusi di Castellisangro e di Popoli hanno indotto una mobilità passiva all'interno dell'Asl-Aquila, sia un elemento forte da tenere in considerazione. Una pronta risposta alle istanze del Sindaco Ranelli è giunta questa mattina dalla senatrice del PD Stefania Pezzopane, che ha annunciato l'impegno del Governatore Luciano D'Alfonso ad attivare un confronto tecnico sui numeri. Stiamo sollecitando ad applicare la legge ma con cognizione di causa, con senso e rispetto verso questo territorio e abbiamo, almeno per quello che mi riguarda, trovato ascolto. Ora, oltre che ascolto, ci aspettiamo passi conseguenti. La senatrice Pezzopane, dopo essere stata accolta dal direttore sanitario Tonio Di Biase, accompagnata dal suo fidanzato Simone Coccia Colaiuta, ha compiuto un sopralluogo alla struttura, insieme al Sindaco Ranelli e al Vice Luciano Marinucci. Presente inoltre il consigliere comunale Roberta Salvati. Il primo cittadino ritiene l'interessamento della parlamentare aquilana un passo importante che dovrà portare al raggiungimento dell'obiettivo. Vorrei convincere, anche dal punto di vista tecnico, il Presidente che delle potenzialità di questo presidio all'interno di un territorio così vasto. Grazie.